Ehi signori, io sono Porto2Gamer, quello che attualmente sta facendo la serie è di giocare partite di fila in arena, l'ultima volta ne abbiamo fatto 10, questa volta ne facciamo 25. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi anche perché a breve arriverà la 50 partite di fila, la 100 partite di fila. Allora, la situazione dalla quale partiamo è questa, Open League, divisione 4, 1505 punti, 495 alla prossima Liga. Allora, la prima non può che essere a Tilted e vi dico fin da subito che ci saranno seri problemi di capacità perché essendo la prima che non mi faccio, cioè la prima che mi faccio dopo non so quanto tempo, forse una settimana, comunque uscirà malissimo. Però, insomma, deve andare così, la prima è degli stupidi, la prima è degli stolti, la prima è dei... Sento già gente sopra... E dai, guarda come scappa sto tipo, e manca fa così però. Uh, ma veramente? Uh, sono un po' aggressivo, un po' aggressivo. La prima deve andare così, cioè perché la prima, capito, c'ha proprio quel sentore di tanto la perdita... La prima, ragazzi, oggettivamente, la prima partita che si fa non si può mai vincere, c'è una legge scientifica, qualcosa di provato, capite? Ma... Che cavolo, ma non ci posso credere, l'ho giocata malissimo! Mi sono anche accorto che più gioco e più il mio ping aumenta. Ma questo video inizia benissimo! E vabbè, da dietro, vabbè, vabbè, io non ci atterro a Pinaculi, basta, non ci atterro a Pinaculi. Scherzavo ovviamente se mi andano a Pinaculi, però questa è l'ultima volta che ci vado, sul serio, in questo video. Chi ha preso l'arma? Io non so ancora chi ha preso l'arma, era ovviamente lui. Ok, uno ce l'abbiamo. Questo dizio non ha reagito? E mi servono le sue cose. Ma dai, avevo il caricatore di dito! Questo aveva quattro di vita! Oggi sto sbroccando! Non ci torna a Pinaculi. Vabbè, ok. Devo necessariamente continuare a cercare la cacciara e mettermi in difficoltà, mettermi con tanti nemici davanti, perché altrimenti poi avrò seri problemi quando si tratterà di fightare seriamente. Quindi devo continuare a mettermi, diciamo, in situazioni scomode e roba di sto tipo. E poi così mi sono rubato due kill, quindi insomma male non mi è andata. No, non ci credo. Potrei morire. Potrei seriamente morire e potrei reagire malissimo morendo. Ok. E credo che questa cosa non mi ricapiterà mai più in vita mia. Complimenti alle mie ore del tipo, no, veramente GG. Ma che cavolo? E tu ti appensa a me però? Ma non è possibile oggi! Oggi ragazzi la faccio proprio a giocare, cioè... Oggi proprio la stupidità, capito? Cioè, non si può, non si può, non si può, non si può. Allora io prendo un'arma, tu cosa fai? Prendi le armi e chili la gente, no? Cioè, vedete, già mi stanno a sparare, già mi stanno a sparare. Devo scendere, devo scendere. Questa sedia non è un nemico. Questa sedia non è un nemico! Ma basta menarvi. Aspettate che venga io, così vi meno io. È una questione di rispetto, capite? È una questione di rispetto. Per chi ha più anni e più esperienza di voi. Capito? Ma secondo me sono appennacoli che stanno tutti pazzi e sgravati? Perché questi non possono essere così scarsi. Cioè, letteralmente non ho cambiato... Non ho cambiato lega. Come fanno ad essere così scarsi? Vabbò. Cioè, la calma è la virtù dei belli. Dei forti. Dei... Quelli che si fanno eliminare da me e quindi sono ancora più belli. Ma che è sta lobby? Non capisco! Perché le lobby sono così strane? Non ci faccio niente a quello. Non stanno a sparare? Buono. E questi non hanno la slurp, ok. Ne posso pure andare allora. Questa cosa non doveva succedere. Ma che cavolo? Perché non mi attiva l'autocostru... Ah! Quel tizio arriva prima. Mi tocca andare sotto. La roba è... Va su... Non capisco perché si teletrasporti la roba su questo gioco. Ma tu sei un tipo? E la mia mira è veramente quella. Vabbè. Ups. Scusami. Non posso morire! Non posso morire così! Vabbè. Oggi non so giocare. Oggi non so giocare. Oggi ti vuoi, 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 ti vuoi. C'è un po' di gente, eh. Oh, ma forse ho capito dove sono spawnati tutti quei tizie prima. Vabbè. Io provo a fare una cosa. Ok. C'ho più materiali di me. Ok. Ok. Non sapeva giocare. Posso. Mamma mia, questo mi ha menato. Non ce credo. Bravissimo. Ah, amico, non sta andando come volevo. Amico, no. Non sta andando come volevo. Se fossi morto, avrei reagito bene. Come una persona matura, la quale comunque accetta la sconfitta di una giocata fatta male. Non farò ulteriori domande per citare il vecchio video. Mamma mia. Ok, a posto. Godo. Ok, l'ultimo dovrebbe essere tipo scarsissimo. E senza vita, tipo. Ma è morto? Dai, è morto. Ma fai essere ancora in vita, un essere del genere! Sette kill. Vinta. GG. Ok, sono entrato nella liga nella quale comincio a levarmi punti. Cerchiamo almeno di portarci 30 punti a casa ogni game e di restare costanti col numero di punti. Ok. Voglio risalire però perché c'erano le chug. Io non ho preso per fretta per farmi la kill. Ok. Ottima mossa. Bella mossa. Jordan, complimenti. No, è la più intelligente che tu potessi fare nella tua intera vita, credimi. Ah, wow, avevo un vantaggio. Madre di Dio, mi devo subito spostare da qua. Questo qua è morto perché si è trovato bloccato in una maniera orribile. Ho sentito un tizio camminare, ma non lo vedo. L'ho visto. L'ho visto. Ma io sto facendo pure cadere giusto la cosa in testa, non ci credo. Ok. Messo in un fight che non poteva neanche affrontare per le cure che aveva. E ovviamente ora ne arriva un altro, vabbè, ok. Quanto è in alto? Ok, un'altra terra. Stai arrivando anche la safe. Fatemi scendere da sto bestione incredibile che abbiamo creato. Che significa? Un altro? Che prova a farci cadere. È un altro là. Vabbè, uno alla volta, dai. E uno. E... Vabbè, questo è stato la chadness. Questa è stata la chadness più assoluta. Non ci credo. Ok. Quanto casino abbiamo fatto? Qua mi sa un po'. Mamma mia. Esci fuori. No, avevo finito il caricato. No, 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 così no. Questa era un'altra vittoria. Era così vicino. Voglio tornare a Tilted. Perché ci ho ripreso un attimo più la mano negli ultimi due game. E forse se riesco anche a lendare decentemente, a casa qualcosa di carino ce lo portiamo. Perché si teletrasportano? Dove sono? Dove sono? Quella chest, cosa mi ha dato? Non... Perché gli oggetti sono in... Cosa sta succedendo? No, fermati, fermati, fermati. Mamma mia. Rientra dentro? No. Ok. Ok. Davvero? Un bot? Ok. Mannaggia. No, bravo, bravo, cavolo. I slabborgeni. Eh, forse è stata una pessima idea buttarmi a con i crossroads. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, quasi dieci. Le persone che ci sono. A posto. Ok, perfetto. Quanta roba aveva. Ehi, starti così, brother. Ok, uno. Credo stia scendendo. Lo andiamo a prendere. Dai, sta scappando. Quando scappano non ho sempre una buona ragione. Sempre. Ok. Ok, shield gag mio. Eh, ci ho provato, ragazzi. Non avevo visto la video. Ho detto... Ho la valla a spacca. Erano in tre. Erano in tre. Stavano per menarsi tutti quanti. Lo vedete da qui. GG. A Pinnacoli c'è una concentrazione di gente. Alta, sicuramente. Ma anche a livello proprio di skill. Decisamente diversa rispetto al livello medio che incontriamo. Ah, grazie. Questo shield gag è proprio bello. Molto gentile da parte tua. Da dove sei sponato? Tu che mi hai fatto 30 con un fucile a pompa a quella distanza. Dov'eri? Dov'eri? Muori! Giro 30 vita! Com'è possibile? Dai, tanto buttarsi in zone non mega gettonate potrebbe non essere particolarmente un errore. E poi ci assicuriamo anche una kill. Basta, brother. Dai. Io vorrei non farlo, ok? Io vorrei. Ma sono costretto, bro. Sono costretto. Addio, bro. Scusa. Come si fa a piangistei? Ho bisogno di piangistei immediatamente. Come build fai tu con sto ping? Che l'altro poi sto dentro con la struttura e non gli riesco a fare niente. Vabbè, non sono neanche arrabbiato. Sono deluso dalla mia vita. L'ultima ce la facciamo a condotti confusi. Un po' perché siamo anche noi confusi. Un po' perché è metafora di questo video. La confusione stessa, l'inconsistenza della vita. Il... Non lo so. No, questo c'ha quel fucile a pompa orribile. Lasciami stare. Cadi. Bravo. Ok, god. Ok. 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 Bello. Mi è piaciuto. Tre colpi, tre shot. Andati bene. Ah, peccato. Perché aveva uno sputo di vita. Peccato. 15 partite, quindi. Siamo a quota totale di 25 partite. Nel prossimo video ne vedremo un totale di 50. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti vi perdete tutti i prossimi video che arriveranno. Seguimi su Instagram, TikTok, insomma, ragazzi, anche su Twitch dove pepare. E noi ci pecchiamo alla prossima. Grazie a tutti.